Quest'anno Fano fiorisce, cambia la location ma non lo spirito, anzi se vogliamo lo spirito è ancora maggiore. Sì, ancora maggiore. Quest'anno siamo al terzo anno di questo nuovo look della festa dei fiori che si svolge sempre a fine estate. Quindi chiusiamo gli eventi estivi e apriamo la stagione autunnale. Quest'anno a seguito dei lavori che si sta facendo al Fincio di riqualificazione, la mostra del mercato dei fiori verrà alla Rocca Malatestiana, quindi anche lì nel giardino e poi nei giardini della Rocca Malatestiana, quindi un'altra location sicuramente suggestiva e bella che verrà presentata, verrà data alla città e tutti i cittadini fanesi e a chi ci viene a visitare. Quindi l'inaugurazione, ci tengo a precisare, è venerdì alle 11 nei giardini Malatesta e da lì partirà i tre giorni della mostra a mercato. Attraverso quale linguaggio è stato coniugato il mondo artistico con quello floreale? Insomma gli spunti non vi sono mancati certo? No, 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 certo, anche perché questo è il motivo principale che seguiamo già da tre anni in questa mostra, diciamo, manifestazione Fano Fiorisce. È una grande festa che ha il suo cuore pulsante venerdì, sabato e domenica, il 28, il 29 e il 30 settembre. Però l'arte la vogliamo coniugare in tutte, diciamo, le declinazioni. Abbiamo l'arte nel teatro, nel foie del teatro. Abbiamo i ruvi da collettivo che già da oggi e anche i prossimi giorni faranno performance di live painting per il corso. Abbiamo poi la fotografia, la fotografia al Bastione Sangallo. Abbiamo la letteratura con la presentazione di libri al Bastione Sangallo. Poi abbiamo anche, diciamo, altre manifestazioni come entrando a scuola dal giardino, che è una cosa in collaborazione con le scuole, è una cosa fantastica. La didattica anche, quindi, che è importante. Abbiamo Fano Città dei Bambini, che è sempre presente con la loro forza e la loro capacità di rendere gioco tutto. Abbiamo davvero tante cose. Abbiamo la gastronomia, come mercoledì sera, questa sera, in cui ci sarà, diciamo, la cena al Chiostro delle Benedettine. Abbiamo l'arte nei palazzi storici e nelle chiese, grazie a Manuela Palmucci, con un programma di visite che può essere organizzato semplicemente contattandola telefonicamente. Ecco, tutto questo è Fano Fiorisce e la nostra intenzione è far diventare questa manifestazione sempre più forte nel corso degli anni.